zanzare cosa sono sono insetti e cosa sono gli insetti gli insetti sono animali divisi in tre parti insetti chiamati capo torace ed addome gli insetti hanno normalmente quattro ali che possono variare in forma e dimensione la zanzara fa parte dei ditteri di ptero che di ali ne ha soltanto due le due ali mancanti sono sostituite da organi detti bilancieri che consentono voli acrobatici sul torace sono presenti sei zampe tre per parte da 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 sul capo è presente un apparato boccale che serve per il nutrimento quotidiano di solito si tratta di succhi dolci come ad esempio il nettra dei fiori e questo vale anche per le zanzare da 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 le zanzare non sono più grandi di un centimetro se si vede un animale che somigliano a zanzara ma è più grande di un centimetro non è una zanzara qui abbiamo costruito una zanzara femmina ma anche il maschio è sempre molto piccolo ma se le zanzare mangiano i succhi dolci perché prendono il sangue solo la femmina di solito una volta nella propria vita prende una goccia di sangue per la creazione delle uova e perché se prende solo una goccia di sangue da così fastidio perché immette nel corpo dell'ospite un liquido anticoagulante che rende il sangue più fluido e che può risultare fastidioso e urticante anche se non per tutti e perché io ho il sangue dolce in realtà ci sono persone che vengono punte e non si grattano affatto le uova hanno bisogno dell'acqua per schiudersi le giovani zanzare cioè le larve sono animali acquatici anche se respirano aria dall'esterno questo permette loro di vivere anche in pochi millimetri d'acqua e anche in acque molto inquinate la trasformazione in pupa rappresenta il passaggio cioè la metamorfosi dalla larva verso l'animale adulto a lato il ciclo vitale completo dura circa un mese 15 giorni da larva e 15 da adulto l'animale adulto nella maggior parte delle specie non si allontana più di 300 metri dal luogo dove è nato ah santo cielo stanotte mi hanno distanguato quelle bestie dobbiamo sterminarli possibile che nessuno faccia niente se fossi il sindaco saprei io come difendere i bravi cittadini da questo flagello ma è sufficiente respirare per attirarle poi a che servono sono solo bestie inutili non è vero che sono inutili sì ma dovrebbero smettere di darmi così tanto fastidio e qualcuno qui dovrebbe smettere di respirare se nessuno intende aiutarci io ho la soluzione uscite andate al centro commerciale e procuratevi tutto quello che esiste per sterminare queste bestiacce è meglio che ci pensiamo noi già dobbiamo iniziare pulendo il giardino se no le zanzare troveranno sempre un luogo adatto per mettere le uova a presto